Incredulità e rabbia nel golfo di Policastro per il furto da parte di ignoti di una statuetta centenaria della Madonna, posta in una delle nicchie esterne della chiesa di Santa Croce a Sapri. A scoprire stamani la mancanza della statuetta della Vergine, uno dei collaboratori della parrocchia di San Giovanni Battista, di cui la chiesa fa parte. L'episodio ha lasciato sconcertati il parroco Don Enzo Morabito ed i fedeli che non si aspettavano di certo una cosa del genere. Spero che chi abbia compiuto questo gesto rinsavisca e torni sui suoi passi, sono le uniche parole rilasciate per ora dal sacerdote. Al momento comunque nessuna denuncia è arrivata al comando dei carabinieri della compagnia di Sapri. Facente parte del complesso al ridosso della strada statale 18, a pochi passi dal mare, la chiesa di Santa Croce fu costruita nel 1898 ed è una perla in stile neogotico. Fu successivamente affidata ai padri bigi dal cavaliere Giuseppe Cesarino insieme alla decente stabile che fu per volontà dello stesso benefattore trasformato in un istituto di istruzione per i giovani.